Il Museo Accomi Ambiente Il Museo Accomi Ambiente è un museo di divulgazione interattivo e multimediale, l'unico in Europa interamente dedicato alle tematiche ambientali e suddiviso in tre aree tematiche, energie, trasporti, rifiuti e acqua. Il Museo Accomi Ambiente è una struttura curiosa per molti motivi. Il primo sicuramente è quello che gli vengo assorbito da una realtà piena di exhibit che per noi vuol dire macchine strane e con cui i visitatori interloquiscono e possono capire singoli concetti, fare dei percorsi sui temi di vita quotidiana. Questo museo si rivolge non solo ai bambini, anche se negli aspetti di colori, di meraviglia, può essere molto rivolto sicuramente ai ragazzi, ai giovani, però noi diciamo che è un museo per tutte le età. Adulti vengono al museo e poi se ne vanno via dicendo, caspita quante cose non sapevo. Il museo è aperto per le scuole dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, mentre per tutti gli altri il sabato e domenica dalle 14 alle 19. Per sapere come e quando prenotare le visite guidate, visitate il sito del museo all'indirizzo www.museoambiente.org. Il museo all'indirizzo www.museoambiente.org